E' passato poco tempo dalla vittoria dei pirati di Rufi, cappello di paglia, a Wano contro Kaido e l'imperatrice Big Man. Ora i pirati sono appodati su questa isola quantomeno sconosciuta e si preparano all'incontro con uno dei grandi pilastri dei pirati di Gold Roger, Scopper Gaben. Oh, che piacere finalmente conoscerti, Rufi, cappello di paglia, anche se quel tuo nome non è del tutto tuo. Oh, tu eri un compagno di Rayleigh. O meglio, io ti conosco solo come fa, ma Rayleigh non ha mai parlato di te. E diciamo che capisco perché non l'abbia fatto, almeno per il ruolo che mi compete. Vedo che siete riusciti a trovare anche il quarto Rod Pognegriff. Bravissimi ragazzi. In realtà, anche se io sono sempre stato nell'ombra, anche se non domi notizie da nessuna parte, in qualsiasi modo, ho sempre fatto un po' il tifo per voi. Specialmente grazie alla scommessa che Shanks ha fatto su di te. La scommessa di Shanks, guarda, Shanks, io ho un grosso debito con lui, ma non mi ha mai parlato di scommesse. Io so che mi ha donato questo cappello perché è il suo tesoro e io so cosa significa avere un tesoro e quindi il mio obiettivo è restituirglielo, anche se ammetto che farei particolarmente fatica quando lo incontrerò e devo ridarglielo. Cavolo, mi ruffi cappello di paglia. Va benissimo. Forse parleremo un'altra volta del tuo amico nostro, amico Shanks. Però forse tu dovresti essere preparato a ciò che sto per dirti. Il nostro colloquio non è riferito a lui. È riferito a te e a ciò che vuoi fare. Ok, va benissimo. Dimmi di cosa mi vuoi parlare. Ascoltami bene, Rufi. Io so che Shanks ha rivisto in te le parole del nostro ex capitano. Per l'appunto è giusto che tu sia preparato. Hai trovato le coordinate per raggiungere il One Piece. Perfetto. Ma non sei pronto. Lo vuoi essere? Che cosa intendi? Intendo che tu è giusto che sia preparato a conoscere ciò che è accaduto. A conoscere la storia. E a conoscere che cos'è il One Piece. No, 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 assolutamente no. Io voglio scoprire tutto per conto mio. Già Rayleigh mi propose questa cosa, ma io non voglio assolutamente, assolutamente. Io non voglio per niente fare un viaggio scontato. Per quanto io possa essere vicino alla verità, non mi interessa. La voglio scoprire per conto mio. Bene detto ragazzo, non hai capito. Non hai capito l'importanza di quello che sto per dirti e non hai capito quello che tu non puoi fare. Che significa che io non posso fare? Vedi Rufy, trovare il One Piece, impossessarsene, comporta una responsabilità. Non è il tesoro che tu pensi. Trovare il One Piece e attivarlo, ottenerlo, diventare il nuovo re dei pirati, comporta responsabilità grandissime. Essere il padrone di quel tesoro scatenerà nel mondo un qualcosa di gigantesco. E tutto quello che hai fatto fino ad adesso, e credimi, sono molto informato di quello che tu hai fatto fino ad adesso. Tutti gli alleati che ti sei creato con il tuo buon cuore potrebbero dubitare di te. Il One Piece è un oggetto che scatenerà molto probabilmente la distruzione del mondo. E solamente chi è pronto ad ottenerlo, riuscirà ad evitare una catastrofe. Ecco perché Roger non ha voluto ottenerlo subito. Non era pronto, era troppo presto. E figurati, non era pronto lui, ok, era malato, era cagionevole, ma credimi che non ho mai conosciuto un uomo con una forza d'animo quanto la sua. Tu ti senti in grado per superare questa prova? No, 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 aspetta, 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 non ci siamo. Io rispetto che tu fossi uno dei braccio destro di Gold Roger, ma io non voglio sapere le cose, io voglio conoscerle per conto mio, io voglio essere l'uomo più libero del mondo, voglio diventare appunto come il tuo ex capitano, non voglio avere di più, sapere di più. Caro mio Rufi, tu continui a non capire, tu puoi essere come il capitano. Vuoi essere meglio del capitano? Lui è stato in grado di capire che il One Piece non era una cosa che era in grado di gestire nella sua condizione. Se tu vuoi essere come lui, devi accettare di conoscere la verità prima, perché se no non sarai mai pronto. Ti ripeto, attivare il One Piece rischia di distruggere il mondo e a quel punto servirà qualcuno con una forza di volontà, e una conoscenza tale in grado di gestire tutto, altrimenti tu realizzerai il tuo sogno e distruggerai tutto quello che hai creato per ottenerlo. Ecco perché devi sapere la verità. Tu non devi, non puoi non accettare la realtà degli eventi. Non puoi pretendere di salvare tutti, non puoi pretendere di realizzare i tuoi sogni e anche quei degli altri. Se non hai la verità, tu la verità la devi sapere, la devi conoscere, altrimenti sarai come il mio ex capitano. L'uomo più libero del mondo, ma che non ha potuto fare niente. Ma perché io? Io ho il mio sogno, ho solo il mio sogno da realizzare e lo voglio realizzare insieme ai miei compagni. Perché? Perché devo scoprirlo così? Perché devo sapere prima? Cosa c'è bisogno di sapere prima? Io voglio solo diventare il re dei pirati. Non voglio responsabilità, non voglio essere una persona importante, una persona decisiva. Io voglio solo realizzare il mio sogno ed eventualmente aiutare chi ne ha bisogno. Ma cosa mi stai dicendo, Scopper? Ti sto dicendo, appunto, che non puoi ottenere tutto quello che tu hai sempre sognato senza avere sacrifici. Rufi, ricordati, non puoi. Io non ti sto dando una sentenza. Ti sto solo spiegando che non puoi arrivare al One Piece senza essere preparato. Mi dispiace che ciò vada contro la tua idea di sogno, di scoprire tutto da solo. Ma sai cosa accadrebbe? Se tu scoprissi tutto da solo, faresti la stessa fine del Capitano. E credimi, Gold Roger era fiero di avviare una nuova era della pirateria. Ma non era felice, nonostante le grasse risate, non era felice di non essere potuto essere lui a completare il tutto. Perché non era in grado. Perché né lui, né io, né Rayleigh eravamo pronti. Io ti sto solo offrendo l'opportunità di avere la conoscenza per cui tu riuscirai, se vorrai e se ne sarai in grado, di realizzare tutto quello che desideri. Ma non puoi sperare di scoprirlo da solo. Non arriveresti pronto. Esattamente come noi. Non fare il nostro stesso errore. No, no, no. Non mi puoi mettere davanti a questa cosa. Non puoi davvero. Che senso ha che io vada verso una meta dritto, consapevole di quello che succederà. Io voglio vivere un'avventura. Non voglio... Perché? Perché? Non è giusto. Tutto questo viaggio l'ho fatto insieme ai miei compagni. E mentre sviluppavo il mio sogno, loro sviluppavano il loro. Non voglio questa responsabilità. Cosa succede se trovo l'One Piece? Cosa succede? Se lo attivo, come dici tu, se lo scateno, che cosa succede? Io non voglio fare male a nessuno. Ecco. Bravo Rufi. Cominci a capire. Cosa succede? Bravissimo. Come ti dicevo, non puoi trovarti con il One Piece in mano e non essere preparato. Ti dico la verità. tu sei molto fortunato e lo sei stato per tanto tempo e lo sei una volta in più. Io ora sono costretto a rivelarti tutto. Perché tu non puoi rifiutarti se vuoi raggiungere il One Piece e diventare re dei pirati. Però capisco la tua innocenza nel volerlo scoprire da solo. Ma ci arriveresti non pronto. Bene, capitano dei cappelli di paglia. In questo momento ti dimostro il massimo rispetto che posso avere nei tuoi riguardi. accetto la tua volontà di non parlare direttamente con me di cos'è il One Piece e di cosa accadrà quando lo troverai. Però concedimi di parlare con un membro della tua ciuma. Nico Roby. Lei sicuramente è preparata. Lei ha già studiato la storia e la conosce in parte. Quindi forse è in grado di raggiungere una consapevolezza che noi all'epoca non eravamo in grado di raggiungere. Ok? Capitano dei cappelli di paglia in quanto braccio destro dell'ex re dei pirati Gold Roger mi concedi udienza con la tua archeologa Nico Roby. Cavolo tu non sei per niente come Ray Lee. tu sei proprio dritto al punto eh non vuoi parlarmi di Shanks ma vuoi parlarmi per forza di cos'è One Piece. E va bene Scopper Gabbin. Io mi fido dei miei compagni ti permetterò di parlare con Robin ma che sia chiaro Robin anche da te non vorrò non vorrò sapere niente per piacere in quanto tuo capitano ti ordino di non farmi sapere niente e nemmeno agli altri compagni. Voglio che tu sia preparata come chiede questa persona ma voglio che per tutti noi sia una scoperta sia un'avventura. Te ne prego Nico Roby. Non preoccuparti Rufy è lungo l'elenco dei debiti che ho avesso di te come non vi ho parlato fino adesso di tutti poi ne vi ho letto non vi parlerò nemmeno di ciò che mi dirà Scopper Gabbin. Non preoccuparti. Bene vieni mia caro nemmeno tu ne hai passato a poca e mi fa piacere contribuire al tuo sogno di conoscere un po' tutta la storia. Sono convinto che il tuo capitano abbia fatto la giusta scelta a lasciarti la conoscenza. Quella che sembrava una chiacchierata veloce in realtà fu un grosso monologo Scopper Gabbin raccontò a Nico Robyn ogni parte della storia perlomeno quanto ne conosceva lui. Se tutti erano convinti che il dialogo potesse durare pochi minuti in realtà rimasero in disparte per ben quattro ore a scambiare opinioni e parire fino a che Nico Robyn si alzò e si dirise verso il suo capitano. Cosa c'è Robyn? Rufy è terribile Rufy 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 Rufy